L'INN059 coprisedile tecnico con ventilazione interna Fresh Seat è un prodotto pensato per rendere piacevoli i vostri trasferimenti in auto. Dotato di un sistema di ventilazione interna per raffreddare la seduta, basta posizionarlo sullo schienale del sedile, agganciarlo alle staffe del poggiotesta e inserire il risvolto presente nella parte inferiore del coprisedile tra lo schienale e la seduta. Una volta collegato lo spinotto alla presa di alimentazione dell'accendisigari, è possibile azionare il prodotto tramite l'interruttore e scegliere il livello di raffreddamento adeguato tra le due presenti, Low e High. Per spegnere e disattivare l'apparecchio basta semplicemente regolare l'interruttore su OFF. Il suo pratico sistema di montaggio universale, inoltre, lo rende versatile per tutte le tipologie di auto. Con il coprisedile Fresh Seat scopri il comfort di guida anche in piena estate, senza accendere l'aria condizionata e riducendo notevolmente il consumo di carburante. Inno Living. Easy Tech. Easy Life.